Nelle ultime ore l'ex concorrente del grande fratello Anita Olivieri ha mostrato sui social la sua nuova fiamma. Nelle ultime ore, Anita Olivieri, ex concorrente dell'ultima edizione del grande fratello, è uscita allo scoperto sui social con la nuova fiamma, confermando così i rumors degli ultimi tempi che la vedevano vicina ad un nuovo ragazzo, dopo la storia con l'ex coinquilino Alessio Falsone. In effetti, nelle scorse settimane, erano trapelate diverse indiscrezioni che parlavano di una nuova storia per l'ex GFina, notizia riportata anche dall'esperta di gossip di Yanira Marzano. Tuttavia, in quell'occasione, Anita Olivieri era intervenuta sui social smentendo ogni cosa e scagliandosi contro tutti questi rumors su di lei e su chi l'aveva definita un'arrampicatrice sociale. Grande fratello, Anita presenta la sua nuova fiamma. Ecco che cosa aveva dichiarato. Sono stufa di passare per l'approfittatrice sociale, quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da una donna. E questo chiedetelo a chi è stato con me. Se avessi voluto, sarei potuta stare con un calciatore o un cantante a essere sposati con un, riccone, come lo chiamate voi, perché la lista è unga. Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andate a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutti insieme e chiudere un master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa, e io accetterò e imparerò da voi. Così a distanza di giorni dal suo sfogo e dai rumors su di lei, nelle ultime ore, l'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini è intervenuta sui social mostrandosi insieme alla sua nuova fiamma, Alessio Conti. La ragazza si è immortalata in diversi scatti con il nuovo fidanzato, nei quali appaiono molto uniti ed affiatati. Ha poi anche condiviso un video in cui varie testate hanno riportato la notizia della sua nuova frequentazione, a cui ha aggiunto una didascalia del tutto ironica. Grazie per la privacy, RIP Vita Privata